Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video. Allora, io mi presento, per chi avessi visto qualche video precedente e mi avrà riconosciuta, sono la sorella di Michela, la sorella minore, e ho 23 anni. Allora, vi chiederete come mai vedetemi sul canale, non mia sorella. Allora, come avrete letto dal titolo di questo video, appunto intitolato 2016 si raddoppia, questo perché la nostra iniziativa che riguarda appunto questo 2016 è quella di andare a dare una svolta al canale. Questo perché, diciamo, vogliamo far sì che arrivi a un pubblico più basso, sia perché io amerei introdurmi in questo mondo perché amo guardarlo da di fuori e ho sempre sognato di poterne far parte. Io e mia sorella siamo due persone molto simili per qualche aspetto, ma siamo veramente profondamente diverse entrambe. Abbiamo un carattere molto diverso, degli interessi comunque a volte diversi, e quindi questa cosa credo che possa andare a giocare il canale perché le persone che si trovano in questo canale possono avere più sfaccettature, possono trovare più sfaccettature, ovviamente con una persona si possono trovare delle sfaccettature, con due se ne trovano sicuramente di più. E quindi la nostra iniziativa, senza perdermi troppo in chiacchiere, è quella di introdurmi appunto sul canale perché condivido la passione per il make-up con mia sorella, ma amo comunque il mondo di YouTube, lo seguo, e quindi mi piace poter creare qualcosa di nuovo, fare qualcosa di mio, condividere qualcosa con voi. Spero che se questa iniziativa vi piace mi darete modo di farvi vedere tanto altro. Io non sono amica a parti. Stella, vediamo, l'abbiamo vista come una cosa a favore del canale, proprio perché chi entra sul canale può avere due tipi di punti di vista. Uno, che è quello di una ragazza normale, autodidatta, appassionata, quindi una addicted sia al trucco, al make-up, insomma a questo mondo del beauty, e sia una professionista, quindi ciò che è mia sorella poi in realtà. Può essere un canale che può andare molto più lontano e che è quello che noi vorremmo che arrivasse a fare. Come vi dicevo, mia sorella è ovviamente una make-up party, già lo saprete se la seguite già da un po' di tempo. Lei ovviamente non è soltanto specializzata in make-up beauty, oppure comunque make-up fashion e così via, ma la Delamar a Londra ha studiato anche effetti speciali, quindi cose molto particolari che comunque non si trovano su tutti i canali. Sicuramente qualcosa la faremo insieme. Ci tengo a dirvi che se c'è stata questa lunga assenza di mia sorella sul canale è perché abbiamo avuto i lavori a casa e siamo stati fuori casa più di due mesi. Per questo motivo eravamo impossibilitate proprio a girare, a caricare i video perché non avevamo wifi. Perché non ho mai pensato prima di farlo? Perché comunque il canale c'è da un po' di tempo, allora innanzitutto perché come avrete visto per quanto il canale sia accresciuto in questi pochi anni, comunque mia sorella vivendo a Londra non aveva la possibilità di fare tanto perché era proprio impossibilitata dal lavoro. I pochi spazi che aveva li ritagliava con YouTube, però comunque più di tanto il canale non poteva crescere. Io stavo qui, mi stavo laureando, ho studiato fashion design, l'accademia di belle arti. Sono una disegnatrice di moda. Spero di piacervi, ovviamente. È la prima cosa questa perché se non piaccio a voi ovviamente non ha senso. Vi ringrazio se mettete un mi piace, vi ringrazio in anticipo perché è una cosa importantissima. Chiudo qui, un bacio grandissimo. Grazie di aver guardato questo video se siete arrivate fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!